Gerardo sta chiamando Siamo pronti? Siamo pronti? Sì, sì, siamo pronti? Voliamo Ragazzi, silenzio No, ragazzi, però dovete stare zitti Buongiorno, ragazzi Buongiorno, ragazzi Buongiorno, ragazzi Molto piacere Molto piacere De molto gusto Bien Entonces Aquí Estamos con una pequeña delegazione Ahi, dove sta Laura Stefani Molto piacere Molto piacere Molto piacere Molto piacere Un po' del mococa Sì Buongiorno, ragazzi 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 del gruppo di quetzalità, che il gruppo di quetzalità già sono le madri che stanno già fuori di le droghi e di la caglia, si si riunono due volte al mese, i domingos, c'è il gruppo di nuova generazione, che sono i giovani che già stanno fuori di la vita di la caglia e di le droghi, abbiamo i talleri di cucina, panaderia, la pizzeria, costura e ora che stiamo implementando un nuovo taller che sarà Mojo Café, che ancora non abbiamo abito per problemi di trattamento, non so che più, abbiamo anche il servizio di psicologia, il servizio di salute, dove si presta un'attenzione a tutti i giovani che viene qui a la Casa della Amistà, che è il centro della 13 calle, qui sta la psicologa interna e abbiamo una psicologa externa che viene i giorni, abbiamo anche il juridico che è dove si è gli aiuto ai studenti ai studenti di tramite i papi, a cui si accadevono le le aiuta a limpiarnos, a sacar su DPI, a alcuni che non sono riconosciuti, anche se le aiuta per che possano essere riconosciuti. Abbiamo anche un programma di microempresi, dove si le aiuta a le madri, per che possano avere un piccolo negocio, per che possano avere una sostenibilità di loro e di loro, perché ci sono molte che non possono optare a un lavoro per problemi di antecedenti manchati, o per tattuaggi o per livello acadiamico, che è molto basso, non sono atti per un lavoro formal. Non sei se si è bene o non, o hanno una domanda o una domanda. Sì. Allora, muchas gracias a la Presidenta. No somos nella Escuela Ristori, nel centro istorico de Napoli. è una scuola molto attiva, molto attività, è abita tutto il giorno, dalle 8 della mattina alle 8 della tarda. e le attività sono per i bambini, ma anche per i bambini, e le... i maschi, le attività, i bambini, i bambini, i bambini, i bambini, ma anche per i adulti. Molte attività sportiva, deportiva e culturali. Nella riunione qui dos professori poi c'è Luigi e Anna Maria Ok, mio nome è Lanfranco Lanfranco, sì Buongiorno Luigi buongiorno Anna Maria buongiorno le professoresse e allora siamo contenti di conoscervi e speriamo verso marzo-aprile verso il fine marzo dei poteri conoscervi di persona andando con due con due della del Mogocca e io che sono il vecchio fondatore bene come seguiamo? come seguiamo? presentiamo i nomi dei ragazzi presentiamo i ragazzi io soy Francesco ciao Francesco io soy Ludavica io soy Francesco io soy Anna no soy Daniela soy Carmen soy professora de español io soy Sabrina io soy Antonella io soy Luis io soy Federica bene bene se volete se volete adesso vi passo Stefani Stefani tiene a 19 anni è uscita da poco dalla strada ha lavorato con il coordinamento di strada è stato rappresentante dei suoi compagni dei gruppi di strada e adesso è entrata alla casa delle ragazze casa dell'otto marzo che quest'anno festeggia è il suo decimo anniversario allora vi lascio parlare Stefani della vita di strada e della vita dell'otto marzo va bene così? ok ok come la vita come la vita in la calle che è lo che ha fatto in la calle e la sanità e la sanità e la sanità e la sanità la casa 8 di marzo la sanità ciao buenos dias mi nome è Stefani Fabiola Batenzun io le ho parlare un pochetto di come si vive in la calle come perteneciere estive un tempo in la calle e ahorita che sto in la casa 8 di marzo in la calle poi è come il l'equipo di calle llega a lavorare con i chiusi a diversi punti che è Terminal Bolivar Parque Central e Super 24 loro llegano e ci danno un'as charla per motivare e e anche lo che è come 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 lo che è la autoestima come le drogasi nos reanimano a noi e nos hablan del l'equipo di per entrare a lo dia di iniziazione che è lunes e miércoles che che non dice che vanno al mohocca per parte si parai e questo nos aiuta per lasciare un pochetto la droga per non stare tutto il giorno alla calle e adesso lo che ci insegnano all'inizio ci anima poi a seguir adelante e non dann lo che è il desayuno e non dà un permesso para que para bañar il almuerzo e a veces poi si hai una pequeña reflexione e in la calle se vediamo così come se duermi in escena come una banqueta o hai unos che che tiene los punti hai compañero che si ayudano entre ellos mesmos con parte lo que es una sabana o comida o gente que llega también a dejar un plato de comida que hai organizaciones también que no sa que los apoyan con los chicos de calle e si es conforme se vive en la calle así comorta que hay frio hay chicos que no tienen sueteres hay gente que lo llegan a regalar lo que es un vaso de café un y un panito todo eso así es como se vive en la calle y ahí y hay veces que mojoca se organiza que se le va a dejar uno que es un vaso de café o un panito eso eso es lo que eso es lo que pasa en el lo que es en el programa de calle y los días martes jueves y viernes lo que lo que es el equipo de calle a dar lo que es alfabetización a y los chicos que no pueden digamos como escribir o algo así no pueden leer cada grupo se divide y se va un digamos que se va como miércoles martes se va se van a la bol a la bolívar y super 24 cada grupo se divide y jueves y viernes o jueves se va ya vamos a la terminal y al parque central y ya a veces como son diferentes temas los que se dan van a dar la alfabetización a los chicos que no pueden leer o escribir ya eso los ayuda y después ya conforme el proceso que llevan llegan a los días iniciación los que no pueden llegar a los días iniciación y después se pueden integrar a un taller lo que son los chicos de calle y a lo que es educación y también se les ayuda a psicología a los chicos de calle que no que digamos que están golpeados y eso es lo que es lo que es del equipo de calle ahora les voy a hablar lo que es la 8 de marzo bueno y ahora en la 8 de marzo que yo he entrado ahí a que me integrado ahí a la 8 de marzo es una casa donde hay chicas que son digamos como que han vivido en la calle y han tenido riesgo de que le quiten a sus hijos que por eso han ingresado a la casa 8 de marzo para rehabilitarse y para seguir adelante y conseguir un trabajo y si no han conseguido un trabajo pues integrarse a un taller y para tener su vida independiente para integrarse a la sociedad y conforme al tiempo ya han tenido su trabajo y todo y sus hijos han estado digamos en una guardería o escuela o algo así para darles para enseñarles algo en la vida para que sean adelante de sus hijos y una 8 de marzo también como hay chicas que están ahí que no han tenido trabajo a veces por los papeles que están manchados o porque tienen tatuajes por eso que a veces no se le no les dan lo que es un trabajo y solo, solamente, mucho gusto, gracias hola, hola, igualmente hola, 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 hola casa per le meno 176 persone, tra ragazze e i loro figli, bambini e bambine. Adesso nella casa abbiamo due gemelline tremende che hanno tre anni e mezzo. Ci sono nella casa ho adesso 12 giovani donne e 7 bambini e di queste che sono passate più di 10 che sono morte, morte, alcune assassinate perché qui c'è la malavita, c'è la mafia, queste Guatemala somiglia molto a Napoli, abbiamo molti punti in comune, povertà, poi la mafia, i giovani che entrano hanno una vita pericolosa e alcuni pagano, per esempio fanno estorsioni. Di questi 10 ragazzi 3-4 sono state assassinate e ogni anno una decina di ragazzi e ragazze di strada sono assassinati per gli squadroni della morte o inerisse tra narcotrafficanti, hai tanto traffico di droga e uso di droghe qui. Quindi per ora il 76% delle ragazze che ancora vivono sono fuori dalla strada e non c'è nessun bambino che è passato per la strada che sia in strada, anche perché c'è solidarietà delle famiglie. Adesso vi parla Susi su quant'è in strada, ha una bambina che si chiama Alison, ha anche un marito che rimane con lei, ciò che è raro qui perché gli uomini fanno bambini e se ne vanno. Adesso fa parte delle chezzalitas e ha fatto parte del laboratorio di cucina e adesso si prepara per la caffetteria Moco Caffè che stiamo per aprire. quindi vi parla Susi. Aspetta, Gerardo, pronto? Mi senti? Scusa, poiché è venuto il dirigente scolastico, il presidente, allora sarebbe bellino che ti saluta voi, anche perché lui ha diverse cose da fare. Salve. Sì, sì, va a salutare. Sì, sì. Buonasera. Si sente? Sì, sì, sentiamo. Mi fa piacere, vi faccio i migliori saluti e mi fa molto piacere per questo collegamento. È una cosa veramente molto molto bella per la scuola, penso anche per i ragazzi e per tutti noi. e penso che, spero che si possano, spero che possa poi, diciamo, proseguire anche qualche altra volta questa bella iniziativa. Sì, sì, sì. Dunque, adesso mi hanno detto che lei verrà in Italia, l'aspettiamo alla... Io parlo italiano. Io parlo italiano, lei è italiano, sì. No, niente, volevo chiedere, volevo dire, ho saputo che lei verrà in Italia, quindi, se è possibile, volevo invitarla, l'avrei invitarla, avrei il piacere di averla ospite a scuola per un incontro, quindi possiamo organizzare, per un incontro da vicino, che sarà sicuramente molto interessante, molto bello. E quando verrà? Noi andiamo in Italia, alla fine di marzo. Alla fine di marzo, se lei vuole, saremo felicissimi di ospitarla, sarà un onore, diciamo, averla tra di noi, così possiamo, così possiamo, diciamo, conoscerci e proseguire il dialogo. Sì, se andiamo, se andiamo piuttosto verso la metà di aprile, potrebbero venire due ragazze con noi. Va bene, va bene, lei, sì, sì, verrete voi, noi vi aspettiamo, verrete, quindi avremo il piacere di conoscere. Grazie Presidente, io sono italiano, guatemalteco, belga, sono cittadino del mondo, cittadino del mondo. No, me l'hanno detto, me l'hanno detto, sì, sì, me l'hanno detto, grazie, grazie. Vi auguro quindi un buon proseguimento e l'aspettiamo tutti quanti a scuola, grazie, grazie. Sono italiano, guatemalteco, belga, sono cittadino del mondo, cittadino del mondo. No, me l'hanno detto, me l'hanno detto. Allora, può Susi? È Susi che deve parlare. Habla. Susi, habla. Ciao. Mi nome è Alma Susana, pertenezco al Mojoca, sto in il nuovo taller del Mojocafe, anche sono una chica di calle, mi insegnarono il movimento, dove ho una beca per studiare, e ora ho una famiglia. Il Mojoca, mi esposo, anche fu da la calle, e ora ha un lavoro, e grazie al Mojoca, noi stiamo seguendo avanti. Voglio parlare un po' di tutto il lavoro. E' una beca per studiare. La panaderia è il tattante, dove i raggiungi i raggiungi i raggiungi i raggiungi i raggiungi i raggiungi i raggiungi. e sono con un instructor dove le insegna e le vorrei a parlare della cucina la cucina è si le serve in desiderio e almero a tutti i ragazzi che vengono i giorni di iniziazione e anche se le serve a tutti i giorni martedì, jueves e viernes che vengono a studiare e si le serve una piccola rifacione durante che studiano in le tardi per che loro si deixano olvidare un po' di le droghi sta il taller di costura dove anche sta integrato per i ragazzi di la città dove loro apprendano a coser, a fare textura anche hanno una instructora dove le insegna per che salgano del Mojocca preparati a conseguire un lavoro a fuori dove loro vengono per lo che sappiano e il Mojoccafè e questo si va a abri in un po' di tempo abbiamo integrato tre chicas che sono chechalitas e un instructor le vorrei a parlare un po' di chechalitas chechalitas è un gruppo dove ci sono mamate dove sono salita di calle mariposas che sono i ragazzi dove ci sono riuniamo due domingos al mes dove ci sono una una formazione dove ci sono a come seguire adelaide a come trattare a nostri figli e come poter essere parte della società e da lì le aiutano a uno dependendo come vai il processo di a uno le aiutano con una micro empresa per che tenano su trabajito allo mesmos e puoi seguire adelante solamente molto gusto e muchas grazie charlie c'è canina c'è canina c'è volevo dire a te anche a gerardo che in questo momento è questo momento anche dalla Irlanda stanno seguendo questa conferenza questa videoconferenza la nostra ciao dalla Irlanda sul nostro sito ok allora habla no somos todos aquí buongiorno mi nome è Kenia Guzmán ho 28 anni io pertenevo a Mojocca conosco a Mojocca da hace 11 anni ma o meno io sono una ragazza che è stata in la cale durante 9 anni ora ho 5 anni di essere fuori della cale il Mojocca è una casa per noi non è una istituzione è una casa dove è basato sulla amistà libera qui nel Mojocca è Gerardo che è il fondatore di Mojocca grazie a lui molti abbiamo potuto salire da la cale molti molti hanno l'opportunità di essere con i loro di avere un quarto e avere una vita digna come dicono i miei compagni io vorrei parlare un po' di la difficoltà che ha qui in Guatemala per poter conseguire un lavoro che a molti di compagni di difficoltà trovare un lavoro perché molti hanno tatuaggi o muchos de mis compañeros han estado detenidos y tienen su papeleria manchada entonces no no les pueden dar un trabajo o muchas veces también por la por el nivel escolar que ahora para poder tener un trabajo ganando un poquito regular uno tiene que estar en la universidad o muchas veces también por la por el nivel escolar y también sobre un poco que aquí en Guatemala hay mucha violencia muchos de mis compañeros son agredidos por los policías muchas veces son detenidos injustamente se los llevan presos injustamente también son golpeados por los policías de la municipalidad y también por la gente de alrededor de nosotros por los policías muchas veces son detenidos se los llevan presos injustamente también son golpeados no sé si tienen alguna pregunta o duda les podemos responder ¿cuál ha sido la motivación para realizar este proyecto? rabia, dolor La motivazione è la amicizia. La motivazione fondamentale è la amicizia. Io ho venuto a Guatemala hace 23 anni, nel 1993, quando la maggior parte di voi non era ancora a questa terra. E raccoglievo storie di vita di queste ragazze e ragazzi, tra l'altro di uno che verrà con me a Napoli se facciamo la riunione verso il 12-13 di aprile, che sarà in Italia per poco tempo questa giovane donna. E quindi durante queste interviste c'erano relazioni di amicizia che si sono formate e che sono continuate perché mi hanno conquistato, ma hanno conquistato il mio cuore. E sono tornato quando avevo tempo libero nell'Università di Roma. E lì abbiamo fatto gruppi di amicizia, dei quali è nato il Movimento. E quindi la motivazione fondamentale è l'amicizia, l'amicizia che vorremmo avere anche con voi tutti, l'amicizia che è rispetto, che è condividere con gli altri, che è aiutarsi mutuamente. E poi la seconda motivazione importante è la sete di giustizia. C'è molta ingiustizia in Guatemala e anche in Italia. Gente che non ha lo necessario per vivere e gente che ha ricchezze fabulose. E quindi noi vogliamo una società più giusta e più fraterna. naturalmente a volte c'è anche la rabbia, c'è anche il dolore quando uno dei nostri ragazzi o ragazze è assassinato, quando muore, quando non ha lo necessario per vivere. però le cose, le motivazioni fondamentali è l'amicizia, l'amicizia che ci libera ed è la voglia di giustizia. Poi anche il rispetto dei più deboli, delle ragazze che sono vittime del mascherismo molto forte qui. e con le nostre motivazioni di giustizia. Poi anche il rispetto dei più deboli, delle ragazze che sono vittime del mascherismo molto forte qui. E con le nostre motivazioni. Qual è la pregunta? Prima di arrivare all'organizzazione di qua, ci è voluto molto, molto, molto tempo, anni. perché all'inizio tutto era deciso in comune quando eravamo sulla strada. All'inizio, per cinque anni, tutto si faceva in strada. Non avevamo neanche una casa. E' solo alla fine del 98 che abbiamo affittato la prima casa. Poi nel 99 abbiamo, grazie a una sovvenzione dell'Unione Europea, comprato questa casa nella quale ci troviamo attualmente. e quindi però gli adulti di qui non capivano che le ragazze e i ragazzi di strada erano capaci di organizzarsi e di dirigere il loro movimento. e quindi abbiamo dovuto aspettare che poi in un'assemblea abbiamo fatto un colpo di Stato perché abbiamo deciso che gli adulti non avrebbero più preso le decisioni, ma avrebbero soltanto consigliato. e quindi adesso il movimento si è sviluppato con la direzione dei giovani per rispondere ai loro bisogni. Per esempio quando eravamo per strada prima ci siamo organizzati per avere i diritti fondamentali. Poi si è sentito la necessità di studiare e abbiamo fatto la scuola e ho fatto i laboratori di avviamento al lavoro. Poi si è sentito la necessità di avere case e quindi abbiamo comprato la casa delle ragazze poi abbiamo affittato la casa dei ragazzi quindi si è sviluppato con la vita del Mococca che ha finanziato ma un gruppo di amici miei d'Italia quando ha visto io comunicavo ma non chiedevo soldi non avevo riso si viveva con pochi soldi adesso che abbiamo tutte le attività avevamo bisogno di 500.000 euro perché l'euro ha basso e quindi si sono sviluppati delle reti di amicizia con vari gruppi in Italia a Napoli non abbiamo ancora un gruppo di amicizia l'abbiamo a Roma a Milano in varie parti a Firenze in varie parti d'Italia quindi gente che si aiuta abbiamo avuto nel 99 una sovvenzione dell'Unione Europea si è formato anche una rete di amicizia in Belgio per quattro anni abbiamo avuto una partecipazione dalla Olanda dai Paesi Bassi adesso c'è una fondazione austriaca che ci dà 20.000 euro adesso tentiamo di fare i laboratori per guadagnare qualcosa ancora non ci siamo ma speriamo e stiamo costituendo anche in Guatemala una rete di amicizia i ragazzi lo sbocciaggio si è a Chimedan la parola sporca della storia e io sa ben algo però non sono dei primi che sono parte del Mojoca i primi 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 o meno però bene la altra la pregunta sperando che hagan la pregunta che puoi i primi i primi i primi i primi i primi però a partir di oggi già ti hanno a noi come amici in Nápoli che a partir di oggi già ti hanno come amici in Nápoli grazie ragazzi ragazze che a partir di oggi ugualmente io conosco i cuori di Nápoli io sono stato a Nápoli negli anni 60 perché facevo una ricerca in tutta Europa su le cose che volevano fare i giovani ero andato in Germania dove la gente era fredda poi sono arrivati a Nápoli e ho visto il cuore di Nápoli per esempio c'erano ragazzi non mi ricordo più di quale scuola che faceva la quinta elementare e poi loro per vari anni venivano con i genitori a Roma per salutarvi so che i napoletani che voi siete gente meravigliosa con un grande cuore e che siete simpatici e speriamo che potrete anche fare un viaggio organizzare qualche cosa a venire a venire qui sarete sì quali sono i principi di vita ora i mesmos dentro onces quali sono i principi di vita ora i mesmos dentro onces l'amistà 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 toman le decisioni, in Mojocca c'è un comitè di gestione che è un gruppo di giovani che sono representanti di ogni colectivo e anche uno dei principi è la amistad libera, perché qui in Mojocca noi basiamo sulle amistad che è lo fondamentale per noi, sono representanti di ogni colectivo e anche uno dei principi è la amistad libera, perché qui in Mojocca noi basiamo sulle amistad, è lo fondamentale per noi, non si è oito, non si è oito la domanda, non si è oito, non si è oito potete ripetere la domanda che non si è oito, non si è oito la domanda, non si è oito la domanda che non si è oito. Che falta, todavia, in su proietto e perché non si è oito? Che falta, todavia, in su proietto e perché non si è oito? Che falta, todavia, in su proietto e perché non si è oito? Grazie a tutti. 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 Per noi una delle cose più importanti è la amistà, che sia in comunicazione con noi, per vedere come va encaminato il Mojocca, e anche aiutandone a vendere le nostre artesanee, e anche aiutandone a vendere le nostre artesanee. La cosa più importante, quindi, è la amistà, è che voi, da dove siete, vi impegnate per la giustizia, per far rispettare i vostri diritti. È lì, perché il mondo deve cambiare e cambia laddove gli sfruttati, gli emarginati, gli esclusi, si organizzano. E quindi, se voi fate qualche cosa a Napoli, è il movimento mondiale che è più forte. E questa è la cosa più importante. Poi per noi, la vostra amicizia, comunicare di volta in volta, perché non teniamo tanto tempo di fare molti incontri, ma essere legati, mandiamo a Lanfranco le notizie che vi può comunicare. Poi, se volete prendere un po' di artigianato, va bene, ma non è la cosa più importante. Poi, se volete prendere un po' di artigianato, va bene, ma non è la cosa più importante. Poi, se volete prendere un po' di artigianato, ma non è la cosa più importante, ma non è la cosa più importante. Poi, se volete prendere un po' di artigianato, ma non è la cosa più importante. e che abbiamo lanciato comunicazione e che continuiamo facendo, perché così, come voi e noi, possiamo tenere sugeri o proposti per che il Mojocca continui. Ese è uno dei logri che si maneja qui in Mojocca, perché in la calle siamo acostumbrati a che, anche se non abbiamo che fare o non abbiamo dove vivere, sempre c'è amistà, 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 amistà e amore, perché anche non abbiamo tutto lo demás, alcuni economici o propietari o tutto ciò, anche tutto c'è amistà, amistà, amistà e amore. I amistà, amistà e amore. I amistà sono i ragazzi più grandi che hanno, non vedono più di quello economico, ma che, se si hanno un pan e possono dare la metà al altro compagno, lo facendo senza pensare, senza sapere che loro potranno quedarsi senza cuore. Quindi per noi è un gran logro e le ringraziamo molto, che ci hanno ascoltato e hanno chiesto questa intervista con noi. Per parte del governo, noi non abbiamo avuto questo progetto. Per parte del governo, noi non abbiamo avuto nessuna aiuta, nessuna azione, ma anche come anteriormente si diceva, i colleghi hanno avuto violenza, per parte della municipalità, per injusti, per parte della polizia, perché molte volte hanno stato scaricato injustamente, e anche a volte quando hanno avuto un errore o hanno robato, non è la maniera adecuata in cui loro lo arrestano, perché prima di arrestarlo, lo golpeano, lo insultano, lo discriminano, lo humillano. Quindi, il governo sta più con i ricchi, ma con i poveri, i giovani che lo necessitano più. Un anno fa, una decina di anni fa, la moglie del presidente della Repubblica di Guatemala ci dava un'aiuta, ci dava sacchi pieni di zampe, di polli e dell'interiore. però, dopo due settimane abbiamo detto che le poteva conservare per ricevere i suoi amici, che i ragazzi di strada non erano gani che mangiavano i resti dei ricchi, che questo, quindi una elemosina di... di... si un po' di volte in volte fare un rodo non si può... non tutti i giorni non si può mangiare questo. Ma poi il governo avrebbe l'ottico di lavorare, perché qui ci sono molte disegualianze enorme, I ricchi che hanno tutto, tutto, i lussi che una volta solo sono andato nella casa di un banchiero, ho visto delle cose che va bene che non frequento gli straricchi in Italia, però qui c'è la povertà di gente che dorme in baracche, baracche di Singo, dove una volta solo un nylon, e dove c'è, adesso c'è il freddo, c'è 8-10 gradi nella capitale, in altre parti del Guatemala c'è anche neve, 10 gradi non sono molto però è freddo per dormire per strada, quindi il governo non è con noi, il governo è con i ricchi, sta dalla parte di quelli che oprimono il popolo. Va bene, ok, Gerardo, noi siamo felici? Felici di questa connessione, noi speriamo che tu veni a Nápoles con Kenia e altri amici, amici, molto bene questa connessione, no? Un saluto particolare a Xenia, da parte di Anna Maria e a Gerardo, particolare. Grazie, grazie, grazie tanto. Grazie Anna Maria. Prego, a presto. A presto, a presto. Vi abbracciamo tutto, tutti e tutti. Ok, ciao. Ciao, ciao. Le agradecemos. Grazie Anna Maria. Le agradecemos mucho per sua insegnanza, profe. Grazie Anna Maria. Prego, a presto. Adios. Ciao, tutti e tutti. Adios.